Io, lui e il gelato. Sergio Dottavi e Greta Rossetti sono due anime unite dalla passione. Hanno vissuto giorni indimenticabili tra le vie di Roma e le spiagge di San Felice del Circeo, tra un impegno di lavoro e l'altro. Ci sono concessi romantiche passeggiate sul lungomare, baciati dal sole e dal rumore delle onde. Dopo un'avventura romana indimenticabile, i due innamorati hanno preso il treno con destinazione Milano. Mentre Greta è tornata nel suo nido a Monza, Sergio, pur mantenendo un profilo basso sui social, non ha mai smesso di essere al suo fianco. A testimonianza del loro amore indissolubile, una foto ritrae Greta Rossetti a fatto giro del web. Greta sfoggia lo stesso abito indossato a Capri, dove Sergio, con un gesto romantico e appassionato, ha cantato il suo amore al mondo intero. La loro storia d'amore è come un romanzo da altri tempi. Continua a scrivere nuovi capitoli sempre più appassionanti. Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.